Menditto, si cerca una nuova strada per arginare questo inquinamento del Porto. Possiamo riassumere così questo atto votato all'unanimità dal Consiglio Comunale? Non è una nuova strada, è la strada vecchia, però è quella un po' più lunga. Noi avevamo cercato delle scorciatoie, che per il momento sono risultate chiuse, però ce ne sono anche altre le scorciatoie. Cosa potrebbe portare, cosa comporterà anzi questo atto? Si chiedono misure più restrittive, facendo riferimento al piano di risanamento della qualità dell'aria del Consiglio regionale. Che cosa cambierebbe nel momento in cui la Regione Lazio dovesse approvare questa richiesta che è arrivata a Civitavecchia? Cambierebbe che finalmente nello strumento preposto per il risanamento della qualità dell'aria, che è il piano regionale, si comincia a parlare di Porto, dell'inquinamento del Porto, con l'inserimento di alcune misure che sicuramente saranno efficaci. Il problema sono i tempi, l'iter. Dicevo un percorso alternativo perché avete tentato il dialogo con gli armatori e non è andata bene anche con l'autorità portuale, insomma risposte un po' alternanti. Si è fatto riferimento in Consiglio Comunale all'esempio di Venezia, non attuato qui a Civitavecchia, anche a un esempio un po' diverso di Napoli. Continuerete però a battere su questi tasti? Assolutamente sì, stiamo ragionando con l'autorità marittima per imporre anche agli armatori anche a Civitavecchia un'ordinanza simile per l'uso di combustibili senza zolfo anche a Civitavecchia. Vediamo se ci sono i presupposti anche qui per poterlo fare, potrebbe essere una soluzione. Sempre nel corso della seduta è emerso che l'azione della Capitaneria di Porto sta portando risultati importanti, report mensili incoraggianti sono stati definiti però non vengono pubblicati su richiesta stessa della Guardia Costiera. Renderli invece pubblici non aiuterebbe magari anche la cittadinanza a capire se e come sta cambiando l'area per quanto riguarda l'inquinamento prodotto dal Porto? Possibile, però non siamo noi chiaramente lente che possiamo farlo. Una cosa la posso dire è che da qualche anno tutte le navi che entrano in Porto ed escono vengono fotografate all'entrata e all'uscita. Quindi se ci sono problemi di fumi eccessivi vengono evidenziati e poi vengono fatti i soliti controlli del combustibile che a volte sono importanti in numero a volte un po' meno perché purtroppo anche la Capitaneria di Porto ha a che fare con delle ristrettezze di personale e soprattutto personale qualificato e risorse. Grazie. 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 Grazie.